Non solo esercizi e fitness, ma anche tecniche motivazionali per il benessere fisico e mentale, un aiuto per seguire abitudini alimentari corrette, e gestire il tempo libero con meno stress. Di tutto questo si occupa il Wellness Coach, una figura professionale che vi potrà essere di supporto fra cyclette, spin bike, tapirulane e molto molto altro. Il Wellness Coach è una figura che fino a qualche anno fa era alla portata dei soli VIP, ma ultimamente si sta diffondendo anche fra la gente comune. Per tutti gli appassionati di fitness che vogliano avvalersi di una figura che li segua, si spazia da corsi che durano da 6 a 10 settimane, con prezzi che variano dai 100 ai 500 euro a settimana, oppure corsi full immersion, da 1500 euro per 5 giorni, ma esiste anche la possibilità di risparmiare attraverso tutorial che potete trovare a prezzi molto più appetibili. Importante però è rivolgersi a Wellness Coach di cui si è comprovata la professionalità. associazioni quali la ICF Italia o scuole accreditate come la NLP Italy possono venire in vostro aiuto.